salve ragazzi questa sera vi presento un batticatena in neoprene della xlc la misura in questione 2 60 per 90 per cento dieti che io acquistate che monterò sulla mia rockrider st 540 serve viene montata esattamente sul telaio della bicicletta e serve a proteggere gli orti che fa la catena mentre voi andate in bicicletta contro il telaio in modo che appunto il telaio non si righi con l'uso facendo continuazione salti e girando in bicicletta il materiale in questione appunto il neoprene ve lo faccio vedere più più da vicino ha dei rinforzi particolari alle placchette in modo da proteggere maggiormente la vostra mountain bike ve lo consiglio vivamente io l'ho acquistato su amazon a costo di 10 euro intanto vi auguro una buona serata invito a mettere un like al mio video e iscrivervi al mio canale micchi cro salve ragazzi